Voglio ricordare che questa è la legge che sia alla Camera sia al Senato è stata approvata col maggior numero di voti della storia della Repubblica. Nessuna legge elettorale nella storia della Repubblica è stata votata con così tanti voti alla Camera e così tanti voti al Senato. Perché c'era una maggioranza amplissima. Ve lo ricordate, dittare con la fiducia sulla legge fatta con la maggioranza? No, questa è una legge fatta con maggioranza e gran parte dell'opposizione.